C'è una musica con il treno che si muove da lontano Musica di terza classe in partenza per Milano C'è una musica che batte, combatte forte il cuore Chi chi parte è contadino ed arriverà per noi Musica di terza classe in partenza per Milano 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 Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.